L'artista esistenzialista, buonanottata a tutti, stanotte una guardina, secondo me molto molto bella, interessante, particolareggiata, si ferma l'inverosione, perché è un po' un incontro, scontro, dolciastro, diciamo amabilissimo, fra due corpi, due mentalità, due sensazioni più uniche che rari, scontro fra distanze, graffi più unici che rari, cicatrici ma morbide, ripeto, in un amplesso travolgente che dice e non poco. Ecco, quindi c'è molto di immaginifico, tanto di immaginario, ripeto, per il poeta deve anche un po' per certi vesi si gironzolare fra le sensazioni che in pratica gli balenano per la testa. Mi immagino amabili corpi, aggrovigliati, compiaciuti, ma appagati o penitenti, sussurrar gioiano vizi e sorrisi circostanziati ad un'anemica etere con gestizia. Osservo corroboranti pupille ardenti come nocciole color torto di un'inerrabile profondità emozionale, e poi quelle carnose labbro rosso borgogne come lucide ciliegie dolciastre che sostengono cilie immensi ed accarezzano leggiata, fogliame caduto color mogano. Un esile corpo che si muove in penombra, lente e parsimonioso con una curvilinea e schiena sublime che danza doviziosa tra le ferrose lanterne di una rigida tenta color sabbia nel deserto infinito di sciarmo. Due esili, seni, come elegante coppe di ambrato, champagne ghiacciato dalle strepitose bollicine frizzanti ed incommensurabili frangette emozionali a tratti indelebili e mai arrendevoli che vibrano immantinenti il nottetempo, mentre una dorata cetra melodiosa volge il suo amore errante a quel minuto e stile di stelle immature, giallo, paierino. E' un po' questi corpi che sono vicini, aggrovigliati ma non impunemente, amabilissimi, compiaciuti, quindi convinti, ma non appagati e non arrendevoli e neanche penitenti. Quindi massimo compiacimento, non c'è appagamento, c'è un'esplosività più unica che rara, c'è una volontà, quindi condivise e quant'altro. Ripeto, è tutto tremendamente immaginifico, inventato, dettato da sensazioni che ci ballano per la testa. Ci sono queste gioie, novizie, nuove, che sussurran nottetempo, dei sorrisi che sono piacevolissimi ma circostanziati, un po' vicini ad un'anemica etere con gestizia. Un'etere che è quella che ci circonda, che non ha emozioni. Ecco perché è anemica, questa etere, e perché è con gestizia di queste solite paure, di questi graffi emozionali che sono davvero poca cosa. Queste ci sono, di fronte a queste pupille, splendide, profonde, ardenti, le vedo color nocciola, appunto come nocciole color tortora. Quindi un baroncino un po' particolare dentro lo scuro, quindi che hanno una profondità emozionale, inenarrabili, incommensurabili, incredibili. Ci sono carnose, labbra, rosso, borgogna, quello rosso un po' più scuro, quasi come carnose, luccicanti, lucide più che altro, ciliegie dolciastre, quindi vetrose, che non fanno altro che sostenere dall'alto questi cieli immensi, bluastri, incommensurabili. Quasi una sorta di avere il tetto del mondo ma i propri piedi. E a fianco ad essi questo accarezzare, compenetrativo, leggiadro, quindi flemmatico, fluttuante, fogliame, caduto non a caso ai nostri piedi color moca. Quindi un po' ci fa da letto. Quindi un corpo esile, che si muove, leggiadro, in penombra, lento, parsimonioso, tranquillo, con questa schiena curvilinea, che danza sublime, doviziosa, accurata, tra queste ferrose lanterne, a tratte anche roginose, ripeto, per queste emozioni che non hanno una devuta essere in segregazione, nel deserto infinito di charm, tra queste tende con lo sabbia, alquanto ruvide, rigide, per ripeto, per questi timori di emozioni che possono essere decantate al buio della sera. Questi esili semi, piccolissimi, che sono eleganti, coppe di champagne laddove puoi bere questo champagne frizzante, ghiacciato, ambrato, e vedi queste bollicine strepitose, scintillanti, rapide, frizzanti, che fuoriescono da queste coppe. Sono di frangenti emozionali, che sono incommensurabili, incredibili, anche a tratti indelebili, incancellabili. Mai arrendevoli sono lì, vibrano, veloci, immantinenti, immediatamente, nottetempo, a mano che c'è una nottata, che ci cammina addosso, leggeramente, e c'è una scetra dorata, che a quanto melodiosa ci sono queste onde sonore, che sono, ripeto, melliflui, che sono morbide, cadenzate, che non fanno che rappresentare l'amore errante, è una sensazione, ripeto, incredibile, calzante, amabilissima, un amore errante innanzi a minute, piccole, stille di stelle, quindi lucentissime, alquanto immature per le paure, per questo amore che non sboccia, che sono di un giallo paierino delicato, più unico che era l'artista esistenzialista. Buona nottata a tutti.